Spooky, the house of jumpscares, qualcosa del genere, indie horror, partiamo pronto dai lag studios la paura fa 90 Dimension, eccola qua se siamo scregati è completamente in testo se andiamo, press enter ok, vediamo oddio, spooky house senti l'8bit mamma mia ti prego non c'è il mouse, devi andare così eccolo qua torno indietro torno indietro torno indietro New game VSD mouse Sprint Use Weapon oh, però che cazzo ciao, spooky ho bisogno di dire subito l'interfaccia mi piace guarda là le barre di vita la barre dello sprint bellissimo graficamente graficamente stilistico mi piace figo ok, non lo so ciao Spooky andiamo no dai ragazzi è figo è figo ok, corridoio c'è il conteggio di stanze ah, quelle le salta salta fino alla stanza 200 oh mio dio quante sette ci sono c'era 7,50 si può saltare fino alla 500 anche 7,50 c'era anche 7,50 no ragazzi questo lo si fa tutto questo gioco non lo finiremo tutto in una volta faremo più volte però c'era più volte ma che cazzo è figo comunque per adesso abbiamo aperto stanze su stanze non sembra che sia granché siamo alla sesta stanza corridoio su corridoio troppo figo però è figo bello il suono mi piace l'audio ma è bello proprio il design il design è davvero stra... è figo cioè è nuovo per lo meno si è fa molto 8-bit però bivio trombon ci crede ci credo beh ci credo trombon ci crede di brutto ci credo salve permesso salve ok guarda però mi strabiace stilisticamente è semplice ma è davvero d'effetto secondo me sì picc'altro è poco scuro però vabbè troppo pochino sono sicuro che si si incasserà oh oh eeeh oh 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 è qua a sinistra eh bella oddio dove cazzo vuoi finire eh dio ok questa è guardaland questa è la fila la coda l'hai saltata tutta oh oh questo che c'è? bello bello oh dai diventa l'album arte davvero incredibile anche questa bello questa è una candela candela in 2D candela in 2D che ti guarda la candela in 2D che ti guarda ok permesso vai vai guarda il suo corridoio di nuovo oh oh che cazzo pensi? hai spuntato tipo ma chi è sta roba? che buccioso cos'è? che carino ma che cos'è sta cosa? il fantasmino buccioso mio dio mi hai spuntato tipo sembra tipo quelle quei cosi da 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 dai labirinti dove dove ti spuntano i cartonati esattamente con la candela che ti guarda poi andrà avanti c'è sta cosa? c'è la pista da ballo cos'è? twister twister move però quello strano ti ricordo che ma io boh avevo il suolo dritto stavolta avevo il suolo dritto salve è altro bivio altro bivio altro bivio sinistra a destra dritto è difficile andare dritto vai dritto ok andiamo ciao ciao ok ok tranco tra ciao cos'è? la nota al primo questo paese sembra carino ma ho stato qui per giorni sono qui mi sento abbastanza part cos'è che voleva dire? non lo so e mi sento come osservato mi sento come osservato non è romantico non è assolutamente romantico perfetto sinistra ok va bene molto figo questo è il privé questo è il privé eh sì infigato gli effetti di luce però fanno davvero 8 bit però sono strafighi strafighi ciao non ti andare a eliminare la luce guarda anche la luce guarda che fai 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 non c'è qualcosa che mi sta seguendo ma mi sento che sono presso nella stessa ruota mi sembra di essere sempre entrare la stessa camera continuamente esatto mi sembra di essere sempre passato allo stesso posto spero che lasciando delle note in giro spero che lasciando delle note in giro insomma riesca ad orientarmi un po' meglio e sapere che in realtà sto avvenzando e spero che non scappare non credo che sono fai 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 altri corridoi in effetti sono tutti molto uguali si sono molto uguali sono molto uguali non è a caso che brutta immagine però è strafiga nella pelle in camera beh stai bene sogni d'oro nella cartella di gioco ci saranno tutte queste immagini si d'oro anche perchè sono a basse risoluzione oh giù 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 via 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 ecco la povera sedia oh nel tavolino anche un'altra sedia e allora apetitura oh game save oh mio dio oh yeah game save cos'è gattino no 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 terrible stains terrible dancing drinking it was a very romantic idea bevuto e non gli è piaciuto ok le finestre murate e direi che adesso down ah è una ah siamo già scendendo ah posto posto che cazzo di figata no rega ma è troppo figo che cazzo di figata ragazzi è troppo figo via via continua alla residente alla residente uuuuh questo è il tocco di classe il tocco il tocco il tocco di classe proprio che figata mamma mia troppo figa il tocco di classe il meglio sono il meglio quindi vuol dire che io spero che a 100 a 100 apporta 100 intendo alla stanza 100 ci sia un altro salvataggio visto che a 50 c'è un salvataggio aaaaà bardzo stupida siam morti tra un pochino moriamo la zucca zucca la zucca la zucca ci ha arato noi tra l'altro dopo ci abbiamo uno bellissimo un bellissimo pranzo con le ragazze ognuno con la sua esattamente giustamente e arriveremo tutti sudati fratecchi morti Che figata il level design Che figata Ho finito la stamina Guarda le candele in fondo che ti illuminano il percorso Dai ma è il meglio questa roba e tra l'altro trollato se mi spunta qualcosa qua io cado giù oh yeah bellissimo bellissimo si ero bello ma io lo voglio giocare la mattina ma sai che l'ho scaricato con con interesse ignorante avevo detto si dai passiamo e invece lo è che lo insultiamo non posso insultarlo è così cos'è fatto bene secondo me che non è insultabile il vomito che schifo basta è finito spouting splashing soaking inerting just invoking nailing never stops the choking corri oddio è l'alieno che vomita è l'alieno che vomita che schifo ha appena pisciato per terra ah ti rallentano ti rallentano ti stra rallentano sei lì è lì si lo so voglio vedere se c'è qualcosa ti stra rallentano il vomito rimani chiostrato lì rimani incollato si che sto perfetto non è che mi seguo quello stronzo si ma io non voglio neanche saperlo se ti seguo a me hai ragione non puoi farci niente non le puoi evitare puoi farci niente devi ararti le scarpe devi ararti le scarpe via 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 sempre lì dietro ci vuol vomitare mamma mia mamma mia di qua di qua si 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 ti prego come prima come prima stessa cosa di si che culo si sale un sacco corri 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 ah il vomito oh stupido zucca stupido no raga ma è troppo figo è troppo figo oddio le sedie ciao ciao le sedie non ti fermare dai beh mancano 24 stanze abbiamo salvato che cos'è enter enter cat dos cat dos modify house layout error bella access access ok error spaceman 2 ah ah ecco fatalities 137 ah spaceman 1 ah lo stronzo fa vedere gli altri non voglio sapere cosa c'è dopo non voglio sapere ma quanti sono error giustamente via via access program non voglio più sapere niente ok allora destra però si può configurare anche la stanza si ma no dai è carino perché vuol dire che è un po' gestionale tipo si ma per adesso no oh chandelier chandelier sinistra novanta room novanta novantuno dai dai come on solo otto otto non sembrava lui oh video che oh mio dio no raga no raga no raga no 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 ti prego cos'è cos'è ah è tipo pacman si però è in no no ma pacman pacman sta già giocando io sono devo uscire pacman forse si oh mio dio che figata la sala giochi questa la sala giochi guarda l'altro guarda l'altro l'altro start guarda cos'è è castlevania è castlevania oh mio dio che figata c'è oh mio dio si si vi accettavate trozzi no no c'è davidotti mamma si c'è il cervello che esplode ogni volta si 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 è disturbantissimo si ok è fighissimo questo è spento che lo sono spenti no ragazzi ma che bello è bellissimo è geniale beh ma era una stanza 94 si è geniale 94 è meglio è geniale davvero geniale questo gioco incredibile geniale 98 ragazzi twister ok 98 e noi ci speriamo molto 99 e noi ci speriamo molto ci siamo si si ok ok passato oggi per il risultato non mi sarebbe guardo non mi sarebbe non mi sarebbe tutto che ho sbagliato è un po' questa c'è questo gattino dai intanto che dici concludiamo qua sì dai per adesso sì perché continueremo ovviamente perché è vero carino è davvero carino Ok direi che allora per oggi dappertutto Demo Ciao